Weekend tranquillo a Domodossola. Ieri mattina nessuna invasione di bottiglie e vetri nelle piazze vie del Borgo della Cultura. L'ordinanza, ribattezzata Antimovida, firmata venerdì mattina dal sindaco Pizzi, ha dato i suoi frutti. Controlli interforze di polizia di Stato e municipale con carabinieri sabato e ancora domenica sera hanno scongiurato il ripetersi di scene come quelle vissute sette giorni fa. Domenica mattina, complice la mancata pulizia di Conservicio, la piazza era invasa da rifiuti, per lo più bottiglie in vetro abbandonate dagli avventori dei locali. L'azione di prevenzione messa in campo dalla prefettura si è rivelata vincente, spiega Marco Brondolo, comandante della polizia locale di Domodossola. Fin dalle 20.30 di sabato il salotto cittadino e le vie che da esso si dipanano sono state presidiate dalle forze dell'ordine. Controlli anti-assembramento anche nei pressi dei locali. Rispettato il divieto di vendere alcolici e superalcolici in vetro e bottiglie, i miei agenti sono rimasti in servizio oltre la mezzanotte. Con le altre forze di polizia abbiamo controllato anche che la gente non solo fosse provvista, ma che anche indossasse la mascherina come da disposizioni del presidente della regione Piemonte. Tutto si è svolto nella massima collaborazione e non ci sono stati problemi, conclude il comandante Brondolo.